Questa è la presentazione del progetto che viene visto per la prima volta. Il sindaco Brugnaro ha presentato la proposta di riqualificazione dell'area ex Umberto I a Mestre con il masterplan del patron della catena padovana dei supermercati Alì, Canella, che a luglio 2019 si è aggiudicato i 4 ettari di terreno, la gran parte è un'asta fallimentare. Questa è la strada che va al via Piave, questo è il palazzo Donatello, già esistente, e questa è tutta l'area adesso che è assolutamente abbandonata, una parte ce l'hanno prestata per fare il parcheggio. Qui viene il supermercato del gruppo Alì, con parcheggi e anche il piano interato, poi lo spiegheranno loro meglio, e poi invece tutta quanta lì, residenza molto più bassa di quella che era prevista, di medio lusso, insomma, più una qualità della vita, e tutto parco, tutto verde. Il sito, nel cuore della città, è rimasto inutilizzato dopo la dismissione. È stato comprato dalla DNG, società che poi è fallita, restando così una zona di degrado. Questa è l'ennesima dimostrazione di una scelta precisa, che abbiamo intrapreso, di dove può fare il privato, bene che faccia il privato, non ha senso usare soldi pubblici. E io voglio anzi ringraziare privati, appunto come il signor Canella, che investono su maestre con grande coraggio, devo dire, visto anche tutte le, come posso dire, turbative che sono state prodotte in chiave e anche in fase di gara d'asta. C'è gente che minacciava, il comune doveva fare il parco, doveva comprare tutto il comune, e fa tutto il comune, così dopo si trova i medologai per i prossimi vent'anni. Questa area dovrebbe fare parte del centro della città di Mestre, sembra importante. Adesso vediamo assieme con l'amministrazione, il sindaco, le autorità, ciò che si può fare e quello che è la soluzione migliore.